Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi video molto speciale perché arriva per la prima volta sul mio canale la Geek Gear Box Wizardry e ragazzi sono molto molto contento di questa nuova collaborazione, infatti ringrazio tantissimo Geek Gear per avermene inviata una e ragazzi finalmente mi sono deciso a scegliere questa box perché è a parer mio la miglior box a tema Harry Potter come ricorderete io ero già abbonato alla Loot Crate di Harry Potter ma era davvero terribile al netto di quello che vedete alle mie spalle cioè l'arazzo della famiglia Black tutto il resto non ne valeva assolutamente la pena anche visto il prezzo molto molto alto ultimamente ho seguito su YouTube diversi unboxing della Geek Gear a tema Harry Potter e ragazzi devo dire che ultimamente la qualità è salita tantissimo visto che hanno cominciato ad inserire delle repliche di oggetti di scena, di oggetti provenienti dai film di Harry Potter e in passato ci sono state davvero delle cose bellissime come la Ricordella, la Mimbolus Mimbletonia o ad esempio ci sono state le palle del Quidditch, davvero delle cose molto molto carine, ben fatte, interessanti pezzi degli scatti magici, davvero cose molto belle che mi dispiace non avere ma si possono comunque recuperare sul loro sito, si possono acquistare singolarmente io infatti ho acquistato questo che ragazzi a prima vista dovrebbe essere molto molto riconoscibile si tratta della pietra filosofale una pietra filosofale Noble Collection che io non ho mai acquistato costa circa 100€ io ho acquistato questa che era inclusa in una delle box precedenti e ragazzi ne sono molto molto contento intanto il packaging è davvero bellissimo è esattamente come quello che abbiamo visto nel primo film quando Hagrid va alla Gringot per recuperarla dalla camera blindata e ragazzi io questa in realtà l'ho già aperta ma l'ho anche richiusa perché terrò la pietra qui dentro o comunque terrò questa confezione magari sostituendo la pietra con qualche altra cosa e sono davvero molto molto soddisfatto adesso la apriamo assieme e ve la mostro perché è una replica davvero che ne vale assolutamente ogni euro speso e adesso ve la faccio vedere meglio eccola qui ragazzi guardate quanto è bella eccola qui si tratta di una replica molto molto fedele e devo dire che è davvero ben fatta non se ne trovano da nessuna parte io l'ho cercata come un disperato proprio perché non volevo spendere una cifra altissima per quella lì originale e ragazzi devo dire che questa replica è davvero fatta molto molto bene la forma è esattamente quella che abbiamo visto nel film e anche il colore è davvero quello giusto molto azzeccato sono davvero super super soddisfatto di questo pezzo e adesso finalmente andiamo a scoprire cosa contiene questa box che è quella del mese di gennaio naturalmente trovate tutti i link sotto in info box ed eccola qui la nostra box ragazzi sono davvero super super curioso io non l'ho ancora aperta è arrivata da un paio di giorni e ragazzi volevo farlo proprio assieme a voi volevo la reazione più genuina possibile all'atto della registrazione sul sito prima dell'acquisto vi verrà chiesto qual è la vostra casa ed io ho scelto corvo nero e naturalmente la misura della vostra maglia perché come ogni box che si rispetti anche la Geek Gear contiene una maglia ma adesso bando alle ciance ragazzi e andiamo a scoprire il contenuto vediamo un po' ok la box è abbastanza piena come vedete c'è un bel po' di roba e all'interno direi di cominciare subito con la maglia la maglia che è dedicata c'è un drago troviamo lungaro spinato è davvero molto molto carina guardate questa maglia qui fanno sempre delle grafiche molto molto interessanti anche loro la maglia sembra di buona qualità poi è nera e sicuramente questa qua la indosserò nei prossimi video potteriani davvero molto molto carina la maglia poi vedo qui un braccialetto vedo un braccialetto che somiglia a uno che conosciamo molto bene ma vorrei farvelo vedere più da vicino così potrete capire meglio eccolo qui è un braccialino in simil argento e poi abbiamo anche questo che naturalmente è un ciondolino che andrà inserito in questo braccialetto e si tratta di un gufetto quindi probabilmente è cominciata una nuova collezione di ciondolini a tema potteriano che poi si andranno ad infilare in questo braccialetto mi sembra un'idea molto carina e naturalmente io non me ne farò granché però so già a chi regalarlo quindi molto molto carina questa cosa del braccialettino mi piace e poi vediamo cosa c'è ancora qui abbiamo la carta col riepilogo di tutto quello che c'è nella box e poi cominciamo con questo scatolino qui di solito le repliche sono contenute in queste scatoline quindi già vedo che è impresso sul fronte il logo dello Skelegro quindi mi sa che c'è qualcosa che ha a che fare con quella bottiglia lì ed eccola qua wow ragazzi è davvero molto molto bella devo dire che è più bella di quella che ho acquistato anche se è in dimensioni ridotte è davvero molto molto carina mi piace davvero un sacco questa mi sarà molto molto utile per le foto magari da fare su Instagram perché quella lì che ho è troppo grande e non riesco a gestirla bene nella piccola inquadratura delle foto mentre questa qua mi sarà davvero molto molto utile ed è fatta davvero molto bene molto dettagliata e mi piace un sacco è anche abbastanza pesante devo dire che queste repliche sono davvero molto molto belle come potete vedere e sicuramente prenderò delle altre box perché ne vale assolutamente la pena e qui altra scatolina invece abbiamo la sfera con la profezia anche questa molto molto interessante visto che quella originale costa parecchio e vediamo com'è ecco qui abbiamo una sfera di cristallo molto molto bella e poi abbiamo esattamente lo stesso piedistallo che abbiamo visto al ministero della magia quindi eccolo qui quello con i tre serpenti molto molto bella guardate quanto è bella ragazzi è davvero fighissima mi piace un sacco e credo che la terrò assieme all'altra a quella che ho già di Noble Collection perché è molto bella e poi al ministero della magia erano presenti profezie di diverse misure quindi questa qui può stare benissimo accanto a quella di Harry Potter mi piace davvero tantissimo è fatta super super bene la base è di metallo e la sfera è realmente di cristallo di vetro quindi devo dire è super super promossa questa box fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti perché sono davvero super super contento ma non è ancora finita perché c'è questo tubo qui di cartone con all'interno una stampa e quindi adesso la andiamo a guardare parte 1 di 4 quindi sono molto molto curioso e abbiamo un acquerello è una sorta di acquerello con uno dei gemelli Weasley quindi sicuramente negli altri 4 ci sarà tutto il tifo relativo alla Coppa del Mondo di Quidditch probabilmente ci sarà anche l'altro fratello ci sarà Harry e ci sarà anche Ginny molto molto probabile devo dire che sono davvero molto molto interessanti le loro stampe anche perché sono anche firmate dall'artista sono delle opere fatte da diversi artisti ogni mese ce n'è sempre una e quindi molto molto carina anche questa e poi vediamo all'interno abbiamo dei riccioli del colore della mia casa credo che cambino in base alla casa e poi abbiamo un Grattevinci che adesso andremo a vedere assieme e poi c'è un'altra cosa qui sul fondo che è una stampa una stampa esclusiva Geek Gear ed è questa qui di Hogwarts e credo sia ufficiale questa sotto licenza abbiamo una stampa da poter incorniciare questa molto molto carina su licenza originale Warner Bros quindi molto molto bella ed è un'esclusiva per Geek Gear ci sono davvero tante cose il costo della box non è alto e ragazzi vi lascio il link in info box arriva dal Regno Unito quindi impiega circa una decina di giorni per arrivare però arriva con un corriere e si deve firmare per ritirarla quindi non c'è pericolo che venga smarrita questa è una cosa molto importante perché so che i postini di solito fanno sempre casini ma andiamo a grattare subito questo tagliandino e c'è scritto che in caso di vincita bisogna contattare l'email di supporto Geek Gear Box quindi sono super super contento e andiamo a provare mannaggia non ho vinto sarò più fortunato la prossima volta però anche questa un'iniziativa molto molto carina che permette di vincere premi extra ragazzi a questo punto io vi invito a cliccare sotto in info box per andare a visionare tutte le varie alternative di box presenti sul loro sito io ve la straconsiglio assolutamente promossa a pienissimi voti e per qualsiasi domanda o informazione commentate sotto nei commenti o inviatemi un messaggio privato su instagram mi trovate antonio.seria detto questo ringrazio ancora una volta Geek Gear per avermi inviato questa box e vi do appuntamento a prestissimo con tante altre novità ciao ciao Grazie a tutti.